Prima di iniziare vorrei ricordarti di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Ancora molte domande rimangono senza risposta riguardo alla morte di Antonella Di Massa, la 51enne di Ischia scomparsa il 17 febbraio 2024 da Casamicciola e ritrovata priva di vita il 27 febbraio in un terreno di succhivo piccolo, poco distante da Forio, uno dei sei comuni dell'Isola Verde. Oggi Domenico Racco, marito della Di Massa, ha finalmente rotto il silenzio e ha parlato ai microfoni di fanpage.it, soprattutto dopo le indiscrezioni secondo le quali la procura di Napoli starebbe considerando la pista dell'istigazione. Racco ha spiegato che il suo obiettivo principale ora è quello di arrivare alla verità. Adesso voglio capire fino a che punto è arrivata e se qualcuno l'ha aiutata a fare quello che ha fatto. Ha chiarito che non si dovrebbero fare allusioni su Antonella perché non se lo merita e ha espresso il desiderio di ricordare sua moglie con il suo sorriso, l'unica cosa bella che ha dato a tutti. Ha sottolineato che, anche se Antonella non tornerà più, è importante capire cosa abbia passato e cosa abbia attraversato. L'ha descritta come cristallina e trasparente con tutti e ora si preoccupa anche dei figli. Antonella me li ha affidati e ora sono diventato il responsabile anche di loro.